Papà. Che succede tesoro? Sento qualcosa di strano. Qualcosa sta cambiando. Ricordi gli strumenti però. Matita, banco, carta, scarpe. Sei strana. Va tutto bene Charlie. È successa di nuovo. Di che parli? La brutta cosa. Se inizi a perdere il controllo che cosa fai? Non ce l'ho fatta. Lei non è un robot Andy, è una bambina. Con emozioni da bambina è estremamente imprevedibile. Charlie? Deve solo accettarlo e tenerlo nascosto. È nostra responsabilità prepararla. È nostra responsabilità proteggerla. Charlie? Se quelli la prendono, la chiuderanno in una gabbia. Charlie? Faranno esperimenti su di lei per il resto della sua vita. Non la rivedremo più. Se mi prende chi? È successo qualcosa. Deve essere gestito con discrezione. E la rivoglio viva. Oh mio Dio. Sai che significa fuggire? Ci cercano uomini cattivi. Molto cattivi. Odio vivere in questo modo. Tu sei speciale Charlie. Non sono speciale, sono un mostro. Charlie! Charlie! Io voglio aiutarla. Tu vuoi usarla. Charlie! Non essere stupido. Dov'è mamma? Lo senti? Lasciala andare o diventerà peggio. Dov'è mamma? Dimmelo subito! Lei è la prima del suo genere. Un supereroe. In carne e ossa. Devi capire come usarlo. Non deve essere una reazione. Deve essere una decisione. È l'unico modo in cui puoi controllarlo. Sta diventando una giovane donna. Non andremo in prigione? Molto presto... Tu cambierai il mondo. Potrebbe essere in grado di causare un'esplosione nucleare. Scappa, Charlie! In ginocchio! Solo con la forza della sua mente. Il mondo andrà all'inferno. Promettimi che non userai mai i tuoi doni per fare del male. Farò del male solo alle persone cattive. Fidati di me, Charlie. Non devi avere paura. Ti prego, io posso aiutarti. Bugiarda, bugiarda. Che nel fuoco tu guarda. Io non voglio fare del male a nessuno. Ma è una bella sensazione. Come Oh! chiedere un'esplosione nucleare! No! 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 Grazie a tutti.